Ciao Eugenio, Fabrizio Vitale, Gazzetta dello Sport. Il recupero di Lucioni che sembra sia rientrato e sia spendibile per la gara di lunedì, unito a delle possibili varianti di modulo, che cosa ti possono dare in più per questo finale rispetto all'ultima parte di campionato? Ma intanto è importante aver recuperato Fabio perché è un giocatore centrale nel progetto che avevamo in mente a inizio un anno per la sua esperienza, la sua capacità di giocare sotto stress quando devi vincere e dunque dopo tre mesi è un recupero importante. È normale che è la prima settimana di lavoro vera che fa con la squadra, anche se l'ho visto in ottime condizioni, voglioso, ha uno spirito battagliero, è un giocatore che sicuramente non si tira mai indietro e dunque una valutazione se sarà pronto o meno a partire dall'inizio, la farò domani che abbiamo ancora la rifinitura e a prescindere dal recupero di Fabio che è un giocatore molto importante per noi, sicuramente abbiamo lavorato su qualche situazione e soluzione tattica che ci può a volte dare più solidità e dunque prescinde dal recupero di Fabio che è comunque importante ma abbiamo lavorato anche su un piano alternativo che è spendibile quando riterò opportuno farlo e su cui la squadra ha lavorato questa settimana. Senti, aggiungo, Luciano in settimana ha detto che questa squadra ha un po' di timore per ora nell'affrontare gli avversari. Credi che questa sosta sia servita a resettare un po' sotto il profilo di questo momento di impasse che avete avuto? Ma penso che Fabio abbia detto tante cose molto importanti, a prescindere da questa. È normale che la settimana difficile sia stata quella che abbiamo detto, insomma il pareggio di Cremona che poteva essere una vittoria, le due partite successive sicuramente hanno cambiato l'inerzia del nostro campionato nonostante la vittoria di Lecco, poi col Venezia è stata una partita che abbiamo perso dunque da questo punto di vista sicuramente sono state partite che hanno cambiato il nostro aspetto mentale rispetto al campionato ma per come sono state affrontate, per come la squadra ha giocato, ho sempre avuto un'idea di come farlo poi dentro purtroppo abbiamo fatto degli errori che ci hanno penalizzato e di conseguenza questa sosta è stata utile per recuperare dei giocatori l'abbiamo fatto anche inizio settimana gestendo qualche situazione di conseguenza a parte Ranocchia sono tutti disponibili e dobbiamo lavorare su quello che è l'aspetto di stare dentro un campionato che spesso vi ho detto è difficile, è complicato, è veramente una maratona su questa maratona a volte degli scompensi e delle difficoltà e purtroppo è successo a noi nelle ultime cinque partite ma dobbiamo starci dentro e iniziare facendolo e giocando una partita importante a Pisa Buon pomeriggio Eugenio Paolo Venire del Corrierello Sport spero che la domanda non sia troppo articolata spero di farmi capire perché vorrei soffermarmi su alcune cose specifiche perché noi abbiamo parlato tanto anche ovviamente in questa settimana di modulo come se un cambio di modulo da solo potesse guarire taluni difetti io penso che sia sostanzialmente una questione di atteggiamento molto spesso tu come tutti gli allenatori lo dicono in questo tipo io mi soffermerei su due tipi di azioni che ho visto all'inizio delle ultime due trasferte per capire se è una cosa che hai notato anche tu e che si possono magari correggere 30 secondi di Brescia-Palermo non abbiamo il giocatore che dovrebbe marcare sulla fascia di fatto non c'è, loro crossano e fanno gol lecco un minuto e dieci secondi palla alta, come succedono tante, un rinvio anche piuttosto casuale un mismatch che Gomez perde la palla arriva sulla sinistra dove Parigini è solo perché Lund, non è una questione individuale per capire perché Lund è dieci metri avanti e siamo al primo minuto di gioco ecco, non pensi che sarebbe una banalità ma non sarebbe meglio dirgli il primo quarto d'ora giocate dietro anche con i terzini state più attenti perché anche da queste situazioni sono nati dei gravi pericoli lì Parigini ha fatto un tiro pericolosissimo che Pigliacelli è riuscito a salvare scusala è chiaro, sul gol del Brescia avevamo già parlato è un calcio d'inizio, una ribattuta dove si sono invertiti in centrali e di conseguenza c'è stato un errore di posizionamento perché se non ci fosse stato un recupero della posizione quello spazio sarebbe stato chiuso in maniera diversa come poi si è verificato e che ha innescato il gol del Brescia con l'eco ho ben chiaro perché è successa quella situazione chi doveva essere in quella posizione rispetto a Lund che era avanzato e probabilmente dentro questo concetto c'è un po' dentro il Palermo dove oggettivamente abbiamo dal punto di vista offensivo dati molto importanti dal punto di vista difensivo dati che purtroppo ci hanno penalizzato e dunque questo si è verificato nell'arco di 30 partite questa è la riflessione che devo fare per far sì che questa squadra continui a attaccare continui a produrre a livello offensivo come ha fatto realizzando anche tanti gol e che riesca a consolidarsi dal punto di vista difensivo in ottica di fare benissimo queste otto partite e ci sarà un post-season cercare di svilupparlo al meglio dunque la ricerca di queste due settimane nello studio e nell'applicazione che poi abbiamo messo in campo oggi è di certificare questo lavoro che possa consolidare dal punto di vista difensivo la squadra in maniera più compatta e più solida Un altro aspetto avete avuto questi 15 giorni di sosta avete fatto una specie di controllo della situazione atletica oppure in questi casi è più una questione psicofisica quando una squadra ha delle criticità delle difficoltà spesso dipende da una crisi di fiducia di autostima l'abbiamo detto molte volte ma voi avete fatto in settimana dei test atletici per capire come sta la squadra? Sono quotidiani perché i giocatori sono monitorati tutti i giorni e di conseguenza abbiamo dei dati oggettivi su cui lavorare e sono dati importanti, buoni sicuramente abbiamo lavorato dal punto di vista condizionale sia aerobico che a livello di forza abbiamo lavorato su quelli che sono gli aspetti tecnico-tattici dunque secondo me è stato fatto un lavoro giusto, corretto abbiamo monitorato tutta una serie di situazioni compreso il fatto che stiamo andando verso il caldo e di conseguenza è stato fatto un lavoro siccome è fatto bene che produrrà effetti in questi due mesi finali di campionato Salve mister Orifici, giornale Sicile Salve mister Una domanda più che altro lei l'ha accenata adesso due settimane fa finita la partita con il Venezia lei a distanza da quella partita il lavoro che avete fatto in queste due settimane lei è soddisfatto di quello che ha visto in campo durante gli allenamenti da parte dei suoi ragazzi sia da un punto di vista tecnico-tattico sia da un punto di vista mentale quindi se è contento se lei arriva alla partita di Pisa come voleva arrivare due settimane fa quindi il lavoro si è soddisfatto e poi le volevo chiedere appunto da un punto di vista di interpreti per la partita di Pisa se ha qualche dubbio se comunque si ha le idee chiare Allora rispetto alle due settimane ribadisco che questa squadra ha sempre lavorato bene e forte e nelle partite che ci hanno penalizzato purtroppo abbiamo fatto degli errori che hanno fatto cambiare l'inerzia dentro quelle partite apporte la mancanza e lucidità di leggere la situazione ci ha complicato ancora di più le cose ma dentro le prestazioni qualcosa di importante la squadra comunque l'ha fatto ma non è stato sufficiente per portare a casa i risultati che sono poi fondamentali e questo atteggiamento ce lo siamo portati anche in queste due settimane dove comunque sicuramente la sconfitta del Venezia è stata dolorosa e a volte devi fra virgolette lecarti le ferite ma poi bisogna andare oltre mi ricordo e faccio accenno a questa cosa che l'anno scorso probabilmente incontrando qualche i tifosi ci fu un tifoso che disse che la mentalità ultra vuol dire andare oltre ecco io penso che in questo momento noi dobbiamo andare oltre quello che era la volontà che è la percezione che abbiamo avuto tutti di poterci giocare questa promozione diretta perché eravamo vicinissimi al secondo posto sicuramente adesso in quell'ottica lì la nostra strada è molto più difficile rispetto a quanto non lo fosse cinque partite fa ma penso che dentro il leccarci le ferite vuol dire sicuramente la delusione che in questo momento ci ha portato a distanziarsi dal secondo posto se tu ti rigeneri stai dentro il campionato arrivi bene in questo finale di campionato che non so quale classifica ci regalerà ma la volontà di fare la classifica migliore possibile secondo me questo ti aiuta anche eventualmente in quelli che saranno i propri per arrivarci con la testa giusta con la mentalità giusta con l'energia giusta che poi fa la differenza e di conseguenza questo per me è un aspetto molto molto importante la seconda domanda scusami sinceramente sono abbastanza orientato ho fatto tutte le mie valutazioni ho fatto tutte le prove domani faremo una bella rifinitura bella reattiva veloce e secondo me poi i ragazzi sono pronti a fare una grande partita a Pisa Ciao Genio Valerio Trivia Genzianza a questo proposito siccome ci eravamo lasciati l'ultima conferenza stampa con un po' di situazioni così al limite se ci sono delle novità Sì come avete visto Lucioni e Diacchiti sono rientrati all'inizio settimana visto che il loro lavoro della settimana precedente era proprio coordinato a sistemare le ultime difficoltà che loro avevano abbiamo gestito Di Mariano è rientrato in gruppo venerdì anche se ha fatto il tempo di partita con l'OMAL perché abbiamo preferito gestire il suo carico di lavoro differenziandolo da quello della squadra Roberto Insigni è rientrato giovedì di conseguenza ha cominciato a lavorare col gruppo deve ritrovare una condizione ma insomma questo fastidio che aveva che gli provocava difficoltà nel cambiare direzione del calciare è guarito dunque deve solo recuperare una condizione dunque è pienamente recuperato abbiamo dovuto gestire fino ad oggi che è rientrato in gruppo a squadra tra ore perché ha subito un colpo al polpaccio nella partita con l'OMAL l'avete visto uscire zoppicando il riconsignante ha dovuto fare un lavoro completamente differenziato per tutta la settimana ma oggi ha lavorato con la squadra dunque anche lui è pienamente recuperato dunque a parte la Nokia tutti i giocatori sono disponibili a parte qualche gestione che vi ho raccontato adesso e poi proprio una curiosità se in questo nuovo assetto diciamo che ha il Palermo come figure che si interfacciano anche con la stampa se è un carico di responsabilità in più o se ti fa piacere di avere questa figura alla manager inglese che insomma parla solo lui senza avere come magari capitava in passato un direttore sportivo che parla o qualcuno che rappresenti la società certo devo rispettare la linea societaria che è questa è stata molto chiara dall'inizio io come vedete sono sempre qua a rispondervi in qualsiasi momento positivo o negativo faccio il mio lavoro cerco di farlo al meglio cerco di spiegarvi quello che vedo quello che penso è un confronto continuo con voi e di conseguenza rispetto al fatto che la linea societaria è molto chiara e di conseguenza ne ero consapevole ho portato avanti quello che mi è stato chiesto buon pomeriggio Eugenio Marco Capone Palermo Today due domande rapide da parte mia la prima 30 giornate di campionato la classifica ci dice che avete conquistato 25 punti in casa 24 fuori ti chiedo c'è un equilibrio in questi dati ma quale dei due rendimenti ti soddisfa meno e poi la seconda ti chiedo se eventualmente la variazione del tuo sistema di gioco può essere anche relazionata al fatto che pare che Aquilani voglia cambiare anche lui il proprio assetto grazie no rispetto a questo secondo me purtroppo è mancato qualcosa in casa qualcosa che è il paradosso che poi diciamo da da gennaio abbiamo fatto da dicembre a gennaio 5 vittorie consecutive in casa che era da tempo che mancavano abbiamo fatto fra virgolette eguagliato un record ma nello sviluppo generale probabilmente abbiamo lasciato qualche punto in casa perché insomma il rullino di marcia esterno è buono e secondo me abbiamo lasciato qualcosa in casa perché bastavano magari un paio di vittorie in più in casa avremmo una classifica diversa dunque se ho sicuramente un ramarico di aver lasciato qualcosa in casa quello che è il nostro modo di lavorare di intendere il calcio di svilupparlo prescindere da quello che è lo sviluppo dell'avversario dunque su quello che vogliamo fare noi sull'equilibrio che voglio trovare magari adattando qualcosa cercando una caratteristica diversa da quelle che magari hanno giocato le ultime partite ma prescindere insomma dalle scelte che farà Aquilani cui siamo stati comunque molto attenti per capire come gioca cosa fa però dico prescinde ecco da questo quella che è la logica delle scelte che andremo a fare Buon pomeriggio mister Cettina Pellitteri Azzurra News e allora durante la sua gestione tecnica quindi mi riferisco anche allo scorso campionato le prestazioni del Palermo sono state altalenanti con gare giocate molto bene benissimo male discrete quello che le volevo chiedere è questo in questo rush finale di stagione perché manca veramente poco si riuscirà a trovare un equilibrio nelle prestazioni e quindi una continuità anche nei risultati grazie anche l'anno scorso se non ricordo male abbiamo fatto 13 risultati consecutivi che nell'arco di un campionato sono importanti sicuramente anche quest'anno abbiamo avuto due situazioni difficili che sono state quelle a cavallo tra ottobre e novembre purtroppo queste delle ultime cinque partite che ci hanno penalizzato secondo me c'è stato comunque un equilibrio dentro le prestazioni certo alcune fatte meglio alcune meno bene nelle ultime penso che purtroppo tanti errori ci hanno condizionato troppo anche da un punto di vista risultato e di consuenza nel giudizio generale ma li abbiamo fatti noi dunque è una responsabilità nostra ne parlavamo qualche settimana fa c'è sempre da lavorare c'è sempre da sistemare qualcosa e dunque stiamo facendo questo per consolidare il nostro valore e limitare qualche difetto che nell'arco di questo campionato sicuramente ci ha penalizzato ma io penso che questa squadra abbia le qualità sia morali che tecnico tattiche per fare un grande finale di campionato e per prepararci al meglio eventualmente quello che arriverà dopo buon pomeriggio mister manfredi tutto il mondo forzapalermo.it si percepisce nell'aria almeno da una parte della tifoseria una sorta di rassegnazione come se questa stagione avesse già raccontato quello che doveva raccontare che il destino ormai sia segnato in realtà non è così lo dice la classifica lo dice il fatto che c'è eventualmente una possibilità ai playoff dove se oggi ecco lanciare un messaggio ai tifosi per crederci e sperare ancora e ovviamente sostenere la squadra come continueranno a fare quale sarebbe? Grazie Guarda l'ho detto prima andare oltre io la delusione la percepisco perché sappiate che è la mia la nostra di tutti quello che abbiamo ricreato intorno alla squadra che voglio dire si è visto anche col Venezia perché quando arrivano 30.000 tifosi a sostenere la squadra vuol dire che si è creato un clima di un certo tipo la tifoseria crede nella squadra in quello che può fare quando porti così tanti tifosi ad avvicinarsi alla squadra a sostenerla è normale che poi ci sia la delusione del risultato e sappiamo quanto poi da questo punto di vista cambia anche l'inerzia nel credere in qualcosa e dunque come spesso vi ho detto anche in questo 18 mesi in cui lavoro qui e parlo con voi che è questa capacità di stare dentro le difficoltà e la squadra in questo momento deve dare dei segnali da questo punto di vista io credo fortissimamente in questo che stiamo facendo credo che in questi ragazzi abbiano delle qualità bisogna subire le critiche bisogna accettare quello che ti arriva nei momenti negativi ma le risorse le hai dentro di te e io penso che questa squadra le abbia sempre trovate anche nei momenti difficili siamo andati a lavorare per ritrovarle anche in queste due settimane che sicuramente da un punto di vista mentale vista la sconfitta col Venezia sono stati difficili da affrontare ma in cui ci siamo rigenerati sotto tanti punti di vista e dunque noi vogliamo fare un grande finale di campionato che non so che classifica ci regalerà e per poi prepararci eventualmente al meglio quello che arriverà dopo perché l'obiettivo è ancora lì e sicuramente faremo e daremo il massimo per poterlo raggiungere Buonasera mister Fabiana Mascolino e il Sicilia.it come all'andata la partita contro il Pisa arriva in un momento delicato sia per la sua squadra sia per i toscani ecco in cosa sono simili le due partite quindi quella all'andata e questa e in cosa si differiranno e inoltre volevo chiedere un commento sull'inaugurazione del centro sportivo a Torretto ma io penso che le partite sono sempre importanti il Pisa comunque è una squadra che ha qualità andate a vedervi la vostra rosa andate a vedere i giocatori che hanno recuperato in questa settimana è una squadra che sicuramente ha ambizione ha volontà è una squadra che gioca che prova dunque si affronteranno due squadre che proveranno a superarsi e verrà fuori secondo me una bella partita come l'è stata poi quella dell'andata che è stata equilibrata sino alla fine e dopo siamo riusciti a vincere nonostante erano in vantaggio due gol e ci hanno recuperato con il gol nel finale di Jacopo Segre io penso rispetto al centro sportivo che fa capire quanto il City Group si stia radicando in città che volontà ci sia nel progetto a lungo termine e per me il centro sportivo è un segnale fondamentale per far capire le intenzioni di questo gruppo e di questa società e deve essere per me questo da un punto di vista del tifoso del Palermo gratificante perché si vede una prospettiva lunga con la volontà di fare delle cose importanti salve mister le volevo chiedere semplicemente quali possono essere i punti di vantaggio nell'ipotesi in cui il Palermo dovesse passare una difesa a tre rispetto appunto al modulo utilizzato finora con la difesa a quattro ma sai spesso mi sono confrontato con voi io penso che c'è da occupare il campo dipende come lo vuoi fare quanti giocatori vuoi usare per andare a pressare più alto quanto vuoi tenere più equilibrati sotto prescinde a volte dal tre dal quattro dal cinque è la capacità le caratteristiche di certi giocatori che magari da un punto di vista prettamente atletico e difensivo posso alzare il livello della squadra da questo punto di vista e di conseguenza siamo pronti e preparati a far sì che la squadra sia equilibrata e solida che purtroppo questo a volte ci ha penalizzato rispetto a quello che era stata la produzione offensiva Salve mister Aldo Sessa Sportisi le volevo chiedere e sottoporre tra l'altro un dato da questo punto di vista fino alla partita con la Ferralpisalò il Palermo aveva segnato 13 gol con i giocatori subentrati l'ultimo se non sbaglio è stato appunto contro la Ferralpisalò Soleri da allora il Palermo non ha più trovato gol con chiamiamoli panchinari anche se lei ha perso sempre grande merito per quelli che sono i suoi giocatori volevo chiederle è solo una contingenza del momento di difficoltà che ha affrontato il Palermo in questo periodo che non ha più trovato quello sprint necessario nei cambi o c'è un approccio diverso di questi ragazzi che magari hanno avuto meno spazio nell'ultimo periodo ma no è un dato sicuramente è stato un grande valore perché eravamo tra le squadre che aveva fatto e probabilmente lo siamo ancora gol con i giocatori subentranti è mancato questo e sicuramente è un valore secondo me fondamentale che richiamo spesso perché i 5 cambi cambiano il 50% dei giocatori di movimento e deve diventare di nuovo per noi un valore assoluto di conseguenza l'impegno e la volontà da parte di chi è subentrato non è mancato è mancato magari quel guizzo che tante volte ci aveva risolto le partite a nostro favore e abbiamo lavorato e stiamo cercando di far capire ancora di più quanto sia importante quel tipo di approccio che a volte va al di là del fare un gol ma è il contributo che dai a questo oggettivamente non è mai mancato da chi è subentrato grazie a tutti